Una nuova originalissima creazione del Ministero Stampa e Propaganda, il Centro Sperimentale di Cinematografia, destinato ad apportare un notevole contributo ai quadri della rinata Cinematografia Nazionale, è stato visitato da Sua Eccellenza Alfieri, accompagnato dal Direttore Generale per la Cinematografia. Ampi locali ospitano una biblioteca, laboratori di sviluppo e stampa, sale di montaggio, di ripresa e di proiezione, insegnanti e allievi che sono stati ammessi in numero di 120, tra i quali figurano numerosi scrittori, comediografi, pittori, architetti, musicisti, attori già noti e universitari littori per la cinematografia. Grazie a tutti!